Ciao, sono Ettore Amato e sono il fondatore del blog AmoreMaleducato.it e autore del libro L'amore non fa soffrire. Ciao, sono Vito Torgani e sono il co-fondatore di Performarsi.net, che è un metodo che ha l'obiettivo di favorire e velocizzare la vostra crescita personale. Oggi vogliamo invitarti a un evento unico nel suo genere. Perché unico nel suo genere, Ettore? Perché non avrete mai visto una cosa simile. E di che cosa parleremo in questo evento? Parleremo del perché nella nostra vita continuiamo ad attirare sempre le stesse persone e sempre le stesse situazioni. E parleremo anche di perché non riusciamo ad essere felici in amore. E nella vita in generale. Quindi? Quindi non ci rimane che invitarti a diciamo... Ma quanto costa questo evento? Costa. Non costa nulla. Non costa nulla. È completamente, è un regalo che abbiamo deciso di fare a te per permettersi di cambiare finalmente la tua vita e di non attirare più le stesse situazioni e le stesse persone. Quindi non ci rimane che dare l'appuntamento. Bene. 6 marzo ad Alessandria. Chissà perché capitano tutti a me. A presto. Ti aspettiamo.